Bella a tutti ragazzi, sono l'XMAX e benvenuti in questo nuovissimo video Siamo tornati su Clash Royale, un bel like, un'iscrizione, una campanella Arriviamo a 10 like in questo video E cerchiamo di avere a 170 iscritti da ragazzi che ce la facciamo, credo in voi E so che voi ce la farete, non dell'odiatemi ragazzi Vi aspetto alle 14 live, giocheremo tutti insieme a StumbleGuys Per i nuovi facciamo un video al giorno e una live al giorno, una live alle 14 Quindi l'orario di luglio e agosto è alle 14 Andiamo a giocare il 2.6, lo mettiamo qua Ecco qua il 2.6, c'è il domatore e il canone maxato Andiamo a prendere le 25 gemme gratis nel negozio, che sono le 4 giornaliere Chiedo di avere anche la cassa di primo posto sul clan E vediamo cosa vincere Aspettiamo di vincere Vediamo un attimo ragazzi, 3, 2, 1 Andiamo a prendere la cassa Ok, molto bene, jolly niente, jolly Eppisterelli molto bene, mini pecca E c'era la leggendaria, 3, 2, 1 C'era la leggendaria assicurata Però vabbè Vediamo un po' cosa esce Il pescatore, va bene Non lo usiamo, vabbè Non ci interessa Tutti i finali molto bene La world ha forato dopo, questo video uscirà E martedì Io direi subito di andare a spaccare tutto Inizio a aprire queste casse nel pass Vabbè Arco X, oro, gemme, goblin, aceri, veleno, vaikiri Vabbè, non ci interessa Andiamo a prendere anche questa cassa qui Molto bene, barbari Ok, perfetto Andiamo a pushare un po' Speriamo di tutto ragazzi Perché il 2.6 Andiamo un attimo a allenarmi Come avete letto dal titolo Faremo un paio di partite Siamo contro di box Allora ci abbiamo subito Il nostro domatore di cinghielli Vediamo un attimo Grandissimo domatore di cinghielli Ah, il pecca Allora E non faccio neanche un danno Porca bacca Allora ci tocca Un attimo Andare con calma Adesso Molto bene Allora ragazzi Scheletrini Oh Che fortuna Qui Serve lo spirito Non ci credo Non ci credo Ho preso il danno Ho perso Per usare meno elisir Ragazzi Eh no Mi lagga pure Mi sta pure laggando Ragazzi Mi sta pure laggando Eh Oh Anche lui ha sbagliato Però ragazzi Poteva giocarmela Molto meglio anche io Cioè Mi sono preso un danno Nel pecca Mamma mia Mi ha pure laggato Ragazzi Non so se l'avete visto Come tocca a mettere il log Per forza E anche uno spirito Del ghiaccio E anche gli scheletrini Per non rischiare Vabbè Non servivano gli scheletrini Ragazzi Potevo essere In vantaggio Di un bel po' Invece mi sono preso Quel danno Veramente ragazzi Non ho parole Cercate di xmax Su tiktok E su discord Ci sono i link In descrizione Mi raccomando ragazzi Mi aspetto in live Ragazzi Non so cosa mettere Scheletrini Ragazzi Guarda che Oh mamma mia Ragazzi Sto giocando molto male Mi devo Perché era tanto Che non gioco Crash Royale Mi aspetto Alle quattro ore In live Giocheremo tutti insieme Stiamo Possiamo anche fare Tre partite Adesso vediamo Un attimo Adesso metterà Sicuramente Dai Dimmi surrende 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 Tronco la caso Dai ragazzi Win Win bestiale Lixmax Grazie Di trombo e l'acqua Abbiamo riuscito a like In questo video E a 100 secondi Iscritti Dai ragazzi Che ce la facciamo Più 29 Molto bene Andiamo subito Per iniziare lo sblocco E andiamo a fare La seconda partita Ok Molto bene Maestri Che poco ci interessa Non andiamo avanti Ragazzi Contro Siamo ora Siamo contro 7 Q2 Allora Ovviamente Il log Ultima carta Penultima Ovviamente Il domatore Ultima carta E il log Penultima carta Pazzesca sta cosa Direi di mettere Questo spiritolo Che forse mi prendo Sia la torre Sia il cavaliere E noi invece no Bravo è stato Mi metterei un log Eh no Adesso il log Su sta Ho provato a mettere Il golem dei ghiacci Ma Senso appunto In ritardo Come gli scheratrini Facciamo un po' Di danni Qui Cannone Molto bene Ok ragazzi Allora Con calma Mettiamo anche Lo spirito Del fuoco Cavolo Da tanto ragazzi Che non vi porto Un video di Dash Royale Dai il domatore Ai 14 Non ce la fa Oh ma Veramente Allora Mi metterei Un golem di ghiacci Da dietro Così Partiamo Con calma Io devo Sempre Ricordarmi Che c'è la Princess Quindi devo Sempre tenere Un cannone Attivo Qua Lo mettiamo Qua Perché ragazzi Purtroppo Con la Princess Più danni Prendo E alla fine Questo Qui farà Danni Con la Princess Forse Forse c'è Log bait Qua la fireball La metto Sperando Di mettere Eccola qua Questa qua È una buona fireball Se non c'è Il cavaliere Facciamo un danno Però comunque Ho fatto chip damage Con Con La fireball Quindi buono Molto buono Molto buono Spiritello Cannone Così non prendiamo danni A La princess Allora Allora Perfetto alle 4 ore C'è il live Ragazzi Che spacchiamo Tutto Su stumble Guys Arriviamo a 170 Iscritti Domatore Fireball Sì Comunque Questo qui C'è Log bait Eh Speravo Che ci metteva Torre infernale Invece non la messa Allora Ok Anche se ho un po' Sbagliato il log Vabbè Siamo in vantaggio Di mille Più o meno Ok Un po' Cannone Fireball Che prendo Anche il cavaliere Come ci Da mangi Facciamo anche Due danni Con il giovatore Moschettiere Da dietro Questo qua C'è il log bait Sì 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 Ha sbagliato Anche Anche Il La raso Perché non mi ha preso Il La moschettiere Forse ha sbagliato Anche la torre infernale Ha sbagliato Ragazzi Peccato però Che non ha preso Dai un altro danno Ah guarda E ci Tocca fare Un altro danno Ragazzi Ma sinceramente Non è Un po' Come ne frega Del Dei goblin Molto bene Non me ne fregava Niente Dei goblin Ragazzi Abbiamo vinto Ci godo Ci godo Pizziamo un po' Il volume Magari Mi sentite Più 30 Ragazzi Ragazzi Stiamo spaccando tutto Mi avete chiesto Video più lunghi Quindi facciamo più lunghi Uh qua abbiamo Un bel po' Di ricompense Ci abbiamo Ci abbiamo Un bel po' Di ricompense Va bene Va bene Andiamo alla terza Ragazzi Proviamo a tornare A 5200 Vediamo un po' Con chi Conto chi siamo Io devo mettere Un cannone qua Sperando che non Sappia mettere bene Facendo Dove Dove Jump Così il cannone Perfetto Perfetto Speravo che ci aveva Allora adesso Aspettiamo un attimo Ci tocca fare così Sperando di prendere Anche un altro goblin Molto bene Noi qua mettiamo Un golem Del ghiaccio Per non prendere danni Qua mettiamo Le scheletterine Per togliere i goblin Cerchiamo Ok ok Mamma mia Perfetto questo Mamma mia Che pulizia Eh ok Adesso però Credo che non serve Neanche la fireball Si parte Si parte subito Eh Vabbè Come facciamo Eh ragazzi Non abbiamo Non abbiamo niente Non abbiamo niente Veramente Non abbiamo niente Veramente Ragazzi Come faccio A vincere Allora Qua mi tocca Fare per forza così Qua facciamo Un attimo così Mettiamo anche Le scheletterine Ragazzi Mi sono attivato La centrale Si Questi goblin Li faccio entrare Cerchiamo un attimo Aspettiamo Eh no però Sono troppi danni Ragazzi Devo mettermi Un altro Allora ragazzi Questa è una Molto complica Eeeh Mi ero dimenticato E vabbè Come facciamo Con la torre centrale La triva Dobbiamo mettere Un altro Così Log in predict E scheletrini Come Ho pure spiegato Il log No ragazzi Non è It's not Possible Devo pure Mettere questo Per non prendere Troppi danni Eeeh Non credo Sia possibile Vincerla Ok Devo salvare Il moschettiere Ok Mi tocca Fai così Fare così E dovrei Mettere Lo sapevo Però se Schizza via Un attimo Andando Lo facciamo Facciamo così Eeeh Bravo Questo Eh ragazzi Queste qua Credo sia Una sconfitta Se non Busso al massimo No ragazzi Non credo Sia possibile Vincerla Questa Non credo Non credo No Stava facendo Il danno Non ci credo Ma questa 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 Fortuna Ragazzi Facciamo L'ultima Non ci credo Meno 23 Ma non ci Ragazzi Ho visto Il domatore Mancava Mezzo Secondo Non ci Credo Riproviamo Vai ragazzi Non ci Credo Recuperiamo Ma non ci Credo Facciamo L'ultima Partita Adesso Ragazzi Mi avete Chiesto Tanti Di fare Un po' Video Un pochino Più Lunghi Non ci Credo Potevo Per me L'avrei Persa Però Potevo Un attimo Recuperarla Magari Allora Panone Per difendere La Valkyrie Oh mamma mia Oh no No Ma che cavolo Ma perché devo sempre trovare questi qua Con Che cavolo di Sempre questi devo trovare Oh Ragazzi Sempre Galco X Muori Basta Oh Vabbè Questa qua è già persa Ragazzi Ve lo dico Sono counter Però io Non me l'aspettavo L'arco X Dai Mamma mia No No Vabbè Sì Pure il moscheter jump Mamma mia Oh mamma Oh mamma Pure il moscheter jump Mi son fatto Aiuto Eh Arco X Molto bene Sì Sono contentissima Ho poi risvegliato il cannone Perché Ragazzi ho perso Ma faccio recuperare una partita del genere Ragazzi Ho perso la torre Eh sì Ho perso la torre Allora ragazzi Faccio un push gigante Ma Alco X Non prendi danni da subito Ho perso Ho perso Ho perso Usato il messaggio ragazzi Veramente Ho perso Ho perso Eh sì Vabbè Ragazzi Non Non sa da vince Questa 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 A destra Eh È morto pure il moschettiere È morto Mamma mia Oh L'ho giocata veramente male Ragazzi Le ultime due Veramente L'ho giocata Veramente malissimo Peccata perché L'altra Forse potevo vincerla Allora Qua ho messo L'arco X Quindi Ragazzi La impossible Ho giocato Veramente male 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 Quindi Mi assumo La mia Colpevolezza Possiamo dire così Mi dispiace molto Ragazzi Non ho giocato Veramente Male 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 E mi assumo La responsabilità Che ho perso Veramente Mi scuso Ragazzi Vi ringrazio Per aver visto Questo video Abbiamo fatto due vittorie Sconfite Quindi ci sta E Mettete un bel like Iscrizione e campanella Arriviamo a 15 like In questo video Arriviamo a 170 iscritti Cercate Dixmax Su TikTok E su Discord Ci sono i link In descrizione Vi aspetelo Alle 14 in live Giocheremo tutti insieme A Istanbul Ciao